quando stiamo andando? a fracasso sabino frasso frasso sabino frasso sabino quello è il 2b quello sarà terminato si ma non ciò io andando perché sembra un paesco tra 3 km treni l'uscita verso Orvigno Nerola Toffia Scandriglia Moiano Nativo Frasso Montorio R Pozzaglia S Cinestra Castelnuovo Ha 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 Role archi rampanti, cioè archi attappati, abuso! E' una colonna, è una cosa purissima! Vedi lì un tempo c'è una torta, c'è ancora! Quindi, ora di pranzo! Quante stelle c'ha su... Quattro e mezzo! Abbiamo capito come arrivarci, soprattutto! No, soprattutto, questa qua credo che sia tipo una strana... No, non è a senso unico! Per quanto mi faccia male ad ammetterlo, non è a senso unico! Oddio, ma che sono quelle vite prima! Oddio! Oh madonna santa! Stanno dappertutto! Stanno dappertutto! Ma questo paese ha cinque persone, sono sempre quelle! Sono sempre quelle! Ma fa 700 abitanti! Quanti abitanti fa? E nonostante! Sono tutti emigrati in Papua Asia! O da capo! Dove stiamo andando? A Toffia! Dillo a te! Stiamo andando a Toffia! Toffia sia! Toffia! Toffia! Taffi di bottiglia! Taffi di bottiglia! Musica Andiamo a Montecavallo di qua? Andiamo a Montecavallo regà Oh, le vecchie abitudini alimentari dei comunisti Vogliamo commentare? Musica Sei sicuro di volerlo sapere? Fium! Musica Musica Quindi adesso la destinazione finale? Musica 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 Musica